Anche la Federazione Italiana Canottaggio è presente al villaggio della prevenzione allestito qui a Roma dalla Comen. Come mai avete deciso di essere qui, di essere presenti e ovviamente poi cogliendo l'occasione per presentare il vostro progetto di volta alle donne? Allora, noi siamo presenti perché la Federazione Italiana Canottaggio nel suo Consiglio federale è da sempre impegnato in ambito sociale con diverse iniziative. Nello specifico il canottaggio è risultato particolarmente idoneo, se non unica come disciplina in questo senso, per la prevenzione e la cura di molte patologie, tra le quali l'infedema, che è una patologia secondaria all'intervento di tumore al seno. In che modo appunto lo sport e anche la comunicazione? Perché lei mi sta raccontando delle cose che io e magari tante altre persone non sapevano. Come può influire proprio sia nel periodo della malattia sia nel periodo dopo? Quindi recuperando magari anche le forze e la sicurezza in se stessi. Allora, noi stiamo sviluppando proprio con la collaborazione anche del Comen, del Policlinico Gemelli e di altri ospedali, tra i quali l'IDI, IRCS e di Roma, un progetto di ricerca specifico sul gesto tecnico del canottaggio, sui benefici misurati che il gesto tecnico in morbidezza, quindi con un programma di intensità progressiva, può portare in questo caso alle donne operate al seno. Ma in generale ha tantissime patologie che sono molto diffuse, tra le quali anche la sedentarietà. Quindi è un progetto che si rivolge alla popolazione attiva adulta in maniera molto trasversale. Aggiungerei anche ragazzi che purtroppo sono spesso vittime dei cellulari e dei videogiochi, quindi magari fare cannottaggio potrebbe far bene anche a loro. Allora, la trasversalità vuol dire anche questo. L'integrazione della trasversalità porta magari una donna o un uomo con una patologia pregressa ad avvicinarsi a una disciplina che magari non avrebbe mai immaginato di poter praticare. Di conseguenza coinvolge spesso la famiglia e perché no i figli che a questo punto fanno il canottaggio, ma a livello sportivo agonistico che è il mandato della Federazione Italiana Canottaggio Originale. Possiamo dire che vi troveremo qui l'anno prossimo per la 25esima edizione. Noi siamo amici e sostenitori della Comen da sempre, quindi senz'altro se ci daranno l'onore e l'opportunità di partecipare saremo ben lieti di farlo.